Ciao a tutti e benvenuti in un nuovo video! Ve l'avevo detto che con l'anno nuovo sarebbero successe tante cose! Mi sono impegnata molto perché non è semplice trovarle Una volta era molto più facile trovare Mystery Box! Sì, perché siamo in un video dove apriremo una Mystery Box Una volta era molto più facile, non so se vi ricordate Ormai più di un anno fa, forse due anni fa Wish faceva le Mystery Box, le compravamo spesso, vi piacevano tanto Ogni tanto le trovavo su Vinted, ma Vinted è molto restrittivo su questa cosa delle Mystery Box Non gli piacciono le Mystery Box a Vinted, non so perché E quindi niente, forse perché poi puoi fare reclamo perché non ti piace quello che sta dentro Ma se sei una Mystery non puoi fare nessun reclamo perché se no non si chiamava Mystery, no? Svegliamoci! Comunque, vabbè, a Vinted non piacciono le Mystery Box Quindi ogni tanto riesce a beccarne una di straforo, ma non sono mai eccezionali Ho un amico che è bravo a spiticchiare e gli ho chiesto di comprarmi una Mystery Box su internet Ne ha trovata una di abbigliamento Grazie, grazie perché veramente non so se sarei stata capace di trovarla Comunque, questa Mystery Box ci ha messo qualche giorno ad arrivare Sicuramente credo che sia una persona che se le fa a casa e le vende Non ho idea come funzioni, non ho idea di dove l'abbia trovata Fatto sta che mi è arrivata questa Mystery Box di abbigliamento Si poteva scegliere la taglia, c'era tipo SM, LXL, una cosa del genere Potevi scegliere abbigliamento donna, abbigliamento uomo, abbigliamento bambino Io me la so fatta prende, abbigliamento donna SM S perché ho fiducia in me e so che dimagrirò No, vabbè, in realtà non so neanche se queste cose che stanno qua dentro sono mettibili Oppure sono cose terrificanti, tipo quella roba che trovo quando vado al mercato Che è tipo le cose che tu dici, ah questa me la metto per dentro casa Non lo so, non so la condizione dei vestiti, non so niente Però sapete che mi piace molto aprire le Mystery Box Probabilmente queste cose potrebbero essere brutte Finiranno direttamente nelle donazioni Cioè brutte, non brutte che non emetterei mai Se no è brutto chiaramente Però potrebbero essere per il mio gusto Quindi se non me le metto chiaramente poi le dono in beneficenza senza problemi Ho comprato questa Mystery Box più per fare questo contenuto Che per sbortacce e vestiti Anche perché lo sapete, ho l'armadio pieno dei vestiti Le potrei fare io, le Mystery Box, per gli altri Allora, ci siamo Il pacco non è esageratamente grande Però non lo so quanta roba pesa Quindi ci potrebbero essere parecchie cose In teoria dovrebbero esserci dieci pezzi Però fa sapere Allora, è homemade Cioè è incartato Non c'è una scatola di un brand qualcosa È incartato con la carta da pacchi Io direi di aprire Sono molto curiosa Molto curiosa di sapere cosa c'è dentro Adesso apriamo e vediamo Allora Spacchetti Spacchetti ma non apra Anche perché questo è pieno di scoccio Che apra Ah, molto bene Allora Il tutto è in una scatola di fogli Quelli Vabbè Via carta È un tutto in una scatola di fogli Completamente ricoperta di scotch Quindi aspettate che prendo un taglierino Non so come sia possibile Ma il taglierino era portata di mano Era lì davanti a me Allora Apriamo senza tagliare il contenuto Molto curiosa Molto Mi mancano le mystery box Cioè Come sapete Su questo canale Apriamo la degusta box Tutti i mesi Che comunque è la mystery box Se non ti spoiler il contenuto Apriamo tantissime Too good to go Anzi Iscriviti al canale Se ti piacciono le mystery box Perché Conto quest'anno Di portarvi cose Nuove Carine Questa per esempio Se vi piace Possiamo magari Rifarlo Anche Uomo magari Non credo che poi dentro Ci troveremo cose che piacciono a Luca Perché sapete Luca è un po' strano Però vabbè Non si sa mai Comunque possiamo rifarlo Altre volte Ho scovato quest'amico Che sta a cercare su internet Quindi Lo sfrutteremo Fatto sta che Se ti piacciono le mystery box Iscriviti a questo canale Perché C'è più misteri di questo canale Apriamo tutto ciò Che c'è di misteri Ma a me diverto troppo Regà Cioè Mi piacciono troppo Le mystery box Mi piace anche Quando me le fa Luca Cioè Che non è così misteri Però Cioè Tipo Se va all'Eurospin E mi compra delle cose Che io non so cosa sono È misteri per me Va bene Dai apriamo Allora Maledizione Ok Vi devo dire È O sotto c'è sta mattone Non so Però pesa pesa È È bella piena Le cose Sono usate Sicuramente Non Non credo che ci siano cose nuove Col cartellino Però Va bene Il prezzo non era eccessivo Vediamo cosa troviamo Ci sono delle frange Sicuramente tutte cose da lavare Allora Vediamo Che devo dire C'è un buco C'è un buco Non è male C'ha i polsini C'ha una marca Per caso La marca è MyStyle Allora Avendo lavorato Da Marco Quindi in un negozio cinese Vi posso dire Che di solito Le cose con queste etichette Sono dei negozi cinesi Che Non ci vedo niente di male Perché Un sacco dei miei vestiti Vengono da là O da cin O dal negozio di Marco Quindi direi che Va bene Allora Non è brutto La taglia non c'è Ma di solito Queste cose Sono senza taglia C'è scritto Made in Italy 95% Viscosa 5% Elastene Sì sì Questa è una cosa Di un negozio cinese Quelle cose Fast fashion Però non è brutto Non me li provo Perché Non lo so Da dove vengono Però L'unica cosa È che c'ha Tutte queste frange Sotto E alcune Come vedete Sono sfilacciate Quindi O andrebbe tolta Sta passamaneria Perché È una passamaneria Attaccata sotto Quindi O va tolta La passamaneria E risolve il problema Anche perché Qua Per esempio Si sta già scucendo Quindi In realtà Forse io la leverei Anche perché Queste frange Non hanno molto senso Di esistere Tolta la passamaneria Non è brutto Cioè Non è una cosa Che Non mi metterei Sono pure quelle cose comode Che te metti sopra la maglia Capito Che sta più calda Non me la sento Di bocciarlo Non è manco Messo male Cioè Sembra abbastanza Nuovo Cioè Non è nuovo Sicuramente Ma Non è usurato A parte Averci con lo strappetto Là sotto Vabbè Poi Mi sembra sbrigare Perché mi sembra C'è un sacco Di roba E 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 Pug 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 Non è brutta Cioè Due bottoncini Qua E E Non è brutta Cioè Carina È in sottogiacca È una magliettina A maniche corte C'è Un filetto Tirato Qua dietro Vabbè Niente di che E un altro Qua dietro Pure questo Niente di che Cioè Sottogiacca Non è male È il colore Che a me Mi sbatte immensamente Non so Se vi ricordate Un po' di tempo fa Ho preso un vestito De sto colore E L'ho regalato Perché proprio Mi parevo Chiù Vedete Cioè Non so Armocromiste A me Ma Sto colore Mi sbatte Tantissimo Tutto uno Con la mia faccia Però non è brutta Cioè Anche questa Non ha Grossi difetti O Che Però pure questa Non ha Né la marca Né la taglia 63 Viscosa 37 Poliamide Vabbè Però la taglia Mi sembra giusta Cioè Sì Mi pare Una M Vabbè Andiamo avanti Vedo Dello zebrato Ma che senso Vabbè Prima questa C'è Della pelle Ragazzi Che cos'è È una Gonna È una Gonna Penso Un po' Vita alta Longhetta È brutta Però Da stirare Sicuramente Come si stira Sta roba Oh È Asos È una 38 Asos Design Vabbè Carina C'è elastico In vita Chissà Certo Una 38 Questa Mi sa Che è Considerata S Non so Mica Se M'entra Vabbè Però Metti che Non m'entra Però è carina Comunque C'è un spacchetto Dietro Qua Cioè N'è brutta N'è una brutta Gonna N'è un brutto Capo Comunque Asos Cioè Questa Al negozio Al negozio Online Non costava Meno di 25 30 euro Andiamo Con lo zebrato Che cos'è Proprio pesante Oh È un vestito È bellino È un vestito Con la connellina Svasata Stile Impero Quindi Anticiccia Perché Se è tagliato qua Sotto Ci potete avere Anche la ciccetta Scollato Davanti Ma questo È bello Posso dire Che questo Lo laviamo E lo mettiamo Nell'armadio Questo è molto Ah manca la cinta Qui c'è i passanti Per una cinta Ma la cinta Non c'è Ma tanto L'avrei tolta Probabilmente Ma è bellino Questo Cioè Questo Calza pesante Stivale Via Ma questo È proprio carino Non sa se M'entra M'entrerà Ma sì Questo pure È senza marca Senza taglia Però sembra La mia taglia In effetti Ma che ne so Speriamo che M'entra Questo Questo mi piace Poi Che è Sta cosa Righe Sacco Di righe Made in Italy Quindi anche Questa Classica Etichetta Da negozio Cinese Ah Una giacchina Ma guarda Vedirò Vedirò Queste giacchine Sempre molto carine Con la taschina Allora Aspetta Ragioniamo Cioè Io Ho speso Mi pare Tra tutto Con la spedizione 25 euro Quindi Mi pare che la box Costasse 20 5,90 De spedizione Una cosa del genere Insomma E Fino adesso Cioè Ci siamo Bene Dentro Mi piace Questa cosa Voglio rifarla Scrivetemi Nei commenti Se devo Prenderne Un'altra Mi piace Mi piace Se ci riesco Ne prendo Un'altra Il fatto è che Ste cose Capito Oggi Ci stanno Domani Ci stanno Più Ne trovi Più Cioè So Quelle cose Un po' Un po' Che non si capisce Da dove vengono Dovrebbero Aprire Un negozio Che vende Solo Mystery Box Cioè Io sarei A cliente Numero uno De un negozio De mystery box Ecco Da grande Voglio aprire Un negozio De mystery box Chiaro C'hai quasi 40 anni Sei già grande Ah giusto Vabbè Comunque Se qualcuno Non c'è niente da fare Apritevi un negozio De mystery box Cioè Io le comprerei Ma tipo De tutto Mystery box D'abbigliamento Mystery box De Accessori Per la casa De De Cibo De Tutto Io comprerai mystery box E qualsiasi cosa Troppo bello Vabbè Comunque Questa giacchina è molto carina Non mi piacciono Da impazzire giacche Con le maniche a tre quarti Le trovo potenzialmente inutili Nel senso che Se ho bisogno Di mettermi una giacca addosso Vuol dire Che la temperatura È un po' freschina Quindi voglio stare coperta E anche le mie braccette Vogliono stare coperte Quindi che ci faccio Capito Cioè È una cosa un po' inutile Però non è brutta E è pure tenuta bene Cioè Non c'ha Macchie Strappi Rovinamenti vari Vabbè C'è una giacchetta Ci piace Questa che è Ma che è stati? Ma davvero? Questa è una 42 Quindi Sì Una M C'ha un logo H&M Però è un H&M Oh vecchissimo Guardate com'è scritto H&M A parte che è made in Romania Non penso che ormai le cose di H&M Le facciano più in Romania Ma poi sto logo Cioè De quand'è? Oh mio Dio Mi devo andare a documentare Ma questa è una giacca bellissima Questa è dritta in lavatrice Ve prego Ditemi che non c'ha difetti Cioè Un po' i fili tirati dai bottoni Ma chi se ne frega I bottoni ci sono tutti e due C'è addirittura dentro i bottoni di ricambio Oh wow Ragazzi Sì è H&M Però io con quel logo Non l'ho mai vista H&M Non lo so Ma C'è un filo tirato qua Ma questi sono i fili Cioè quelli che hanno pure i capi di H&M Che poi li tagli te No Oh Posso dire Questa è proprio bella Ma questa va dritta in lavatrice subito Ma voglio mettere domani Sì domani Ciao Chiara Che si asciugano i panni Fuori piove Se faccio la lavatrice adesso Ci vale almeno 5 giorni per asciugare i panni Più o meno Bella questa Mi piace tantissimo Cioè le tasche ancora chiuse Non so finte Sono solo chiuse Pazzesca Questa Cioè questa vale Prezzo della mystery box Eccezionale Poi La mystery box dei giacche Allora Questa è una giacca Considerate che ci vedo attraverso Cioè io vi vedo Ma si sono quelle cose un po' Sempre negozio cinese Tutto poliestere C'ha una striscia bianca Delato Un bottone Dorato Allora Non proprio il mio genere Però almeno c'ha le maniche lunghe Che già non è male E' questa striscia bianca delato Che mi convince poco Se fosse stata tutta nera Però pure questa Ottima condizione Taschine finte Allora Fanno sempre comodo Ste giacchette Io ce ne ho diverse De varie fantasie Fanno sempre comodo Quindi pure questa Tenderei a lavarla E a tenerla Perché comunque Non adesso Magari Ma quando arriva tipo la primavera Che ti porti Una frincosetta Così Che ti appoggia addosso Non è male E' un po' trasparentina Però Ripeto Per l'estate Ma Vi devo dire Ci sono ancora Una Due Tre cose Comunque abbiamo trovato Un sacco di roba interessante Cioè Non tutto Da cestinare E quello che è da cestinare Fino adesso È solo per il mio gusto Cioè Non perché Le cose siano Rovinate O bruttissime È il mio gusto Che magari Questa non me la metto È inutile che la tengo Piuttosto la regalo Però sono tutte cose Molto carine Fantasia Non amo Non amo Troppa Fantasia A meno che non sia Leopardato Zebrato Ma quello era il tuo discorso Perché non è una fantasia Ma è uno stile di vita In quel caso Questa è sempre Made in Italy Forse sono Avanzi De magazzino Cioè Perché non mi sembrano cose Eccessivamente indossate Quindi forse sono Avanzi di un magazzino Cioè Non ci sono le etichette Ma spesso Su queste cose Non ci sono neanche Nei negozi Le etichette Oppure ce le mettono Dopo le etichette Boh Non lo so Cioè Questa Che c'ha sto colletto Così E non è minimamente Rovinato Secondo me Non è stata indossata Comunque Questo è uno spolverino Un po' a lungo Quindi non proprio Una giacca È più uno spolverino Come lo vogliamo A uno spolverino Spolverino C'ha delle tasche Finte C'ha delle tasche Finte E Oro Bianco, nero e oro Discutibile Allora Non il mio stile Sicuramente Che poi Chiara Tu non giallai uno stile Tu ti metti le cose Che trovi nell'armadio Se c'è scritto Barbie È meglio Che stile è Vabbè Comunque Non credo Che lo indosserò Però credo Che non sia Affatto brutto E comunque Ripeto Non macchie Non fili tirati Non buchi Non niente Cioè questo Non credo Che l'abbia indossato Mai nessuno Non lo so Non lo so Curioso Sarebbe bello Scoprire la storia Di questi capi Che sei te Questo è di È di De Debbie Derli Comunque è una M Non lo so Conoscete questa marca Ho fatto un affare Questa cosa vale tipo Centomila euro Io non lo so Ah non lo so Però è carino È un vestito No Vedete perché dico Che queste cose Non sono neanche mai indossate Perché C'ha tutte queste specie Di paillette Ma di pelle Che se tu te lo metti Lo lavi Lo metti Lo lavi Queste sicuramente Se rovinano E In questo caso Sono tutte Precise Quindi Questa cosa Non se l'è mai messa Nessuno Dai Saranno avanzi Di un magazzino Probabilmente Però è un amore Io spero che questo Mi entri Perché questo È veramente carino Cioè C'ha la gonnelli Aspettate Oh Vi dirò No Forse no Colore è diverso Però Questo è molto carino Elegantino Non ce l'ho Una cosa così Nell'armadio Cioè Una cosa elegante Ma non troppo elegante Una giacchetta nera Sopra Ci potrei anche andare a lavorare Calze pesanti Stivale Cioè Spacchetto dietro Io non ce le ho Proprio queste cose Cioè Sono cose che Non attirano Il mio gusto Cioè Se me le devo comprare Non me le compro Però effettivamente È carino E anche andare a lavorare Così Non sarebbe male Direi Che ti diamo Una possibilità E ti laviamo Così poi lo provo E vedo Se effettivamente È il caso di tenerlo O darlo via A occhio Lo terrei Statemi sapere Anche la marca Se la conoscete Io no E abbiamo L'ultima Cosa Che cos'è? Vedo beige Vedo beige Con dei bottoni Questi li ho già visti Da qualche parte Attenzione Colpo di scena Colpo di scena Lo sapevo Lo sapevo Che vi avevo già visto Da qualche parte È lo stesso bottone Però Questa è bianca e nera E questo è beige Vabbè Verranno Dallo stesso posto Che è Una gonna Ah no Un pantalone Ma vi devo dire Che bello Davanti È un pantalone Di quelli Super comodi Perché Sembra che L'hai allacciati E che quindi Te so entrati Ma in realtà Dietro c'è l'elastico E qui vi entrano Tutti Yeah Bellissimi Posso dire No raga Questi sono nuovi Però non se li ha mai messi Nessuno Non è possibile Perché ste cose Se rovinano subito Quando te le metti Se tirano i fili Cioè Questo è nuovo Sono certa Che queste cose Non siano mai state indossate Non hanno il cartellino Ma Sono sicura È così Questa c'ha anche il cordino Del cartellino È di Aspettate Non riesco a leggere Il coso qua Lo devo tagliare Ho deciso anche Di tagliarmi un dito Nel mentre Ense legge Eccolo È di Nazaro Lazaro Nazaro Guardate Che è? Ah qua sotto c'è Arciwawa Comunque c'è i versi Officine Nazaro 1951 Secondo me Questo è fast fashion È pronto moda Del cinese Che Conosco benissimo Cioè Si chiama proprio Pronto moda Evidentemente Questo Nazaro Ci ha riattaccato Le etichette sue Perché Il bottone è Lo stesso De qua Giacca Chi volete Prende in giro Non c'è neanche la taglia Che è veramente Ah sì c'è taglia M C'è scritto Però queste etichette Sono indicative Del pronto moda Cioè di solito Il pronto moda C'ha ste etichette Qua Vabbè Comunque Bella per Nazaro Comunque Sono belli Cioè questi Assolutamente Li lavo Me li metto Sono super belli Poi sono super comodi Così Non escludo che Questi potrebbero venire Con me in crociera Perché sì Se sei capitato qui per caso Ho tirato il titolo Mystery box Di abbigliamento Noi andiamo in crociera Tra poco E vi porterò Miliardi No miliardi No perché ci andiamo Sette giorni Che stiamo via Sei mesi Però vi porterò Un sacco di video Sia della nave Sia dei posti Che andremo a vedere Soprattutto del cibo Perché a noi ci piace Magna E sì sto a dieta adesso Ma solo per poter Magna De più in crociera E quindi Iscrivete al canale Perché ne vedrete Delle pelle Ok Poi niente È bello Questi sono belli Questi li tengo Questi li tengo E vengono anche con me Perché queste cose Sono super comode E non se ciancicano Eccessivamente In valigia Quindi promosso Allora Quante cose c'erano? Una Due Tre Quattro Cinque Sei Sette Otto Nove Dieci cose Quindi onesto Come c'era scritto Tengo Tengo tutto Allora io direi Che non tengo Questa maglietta Ma perché È rosa È solo per quello La maglietta in sé È pure carina Ma è rosa Non credo Cioè vorrei Tenerla Perché mi piace L'idea della gonna di pelle Non credo Che c'entrerò Cioè ci provo Magari Ci provo Tra un mesetto Dopo un mesetto Di dieta Ancora Ma Raga Qui non credo Che c'entrerò Proprio Però va bene Non c'è problema C'è un'amica Che sarà felice Forse non terrei Neanche questa Ma per la manica A tre quarti E che quindi Sarebbe in piccio Perché ma potrei Mettere una volta Quindi forse Questa non la terrei Idem Per questo Perché è Sto lunghetto Che non mi fa impazzì Quindi anche questo Nonostante Sono tutte cose nuove Quindi Credo che le regalerò Questo mi piace molto Però devo togliere Tutta la passamaneria sotto Un po' perché è già scucito E un po' perché è meglio senza Però tolta la passamaneria Forse questo lo tengo Per il resto Le lavo Le provo Tra un mese Perché è tempo che le lavo E si asciugano Ciao Però il giorno che le laverò Le proverò E deciderò se tenere tutto Perché sono tutte cose Che mi piacciono molto Se mi entrano Me le tengo Ovviamente me devono entrare Questo È l'incognita Della mystery box Ma se chiama mystery Perché se no Sapevi che c'era dentro Non c'era più il mystery Ovvio no? Allora Fatemi sapere Se questa tipologia di video Vi piace Ma credo De sì Perché Lo so Che vi piace Perché mi ricordo Anche quando facevamo Le mystery di Wish Le mystery di Vinted È sempre piaciuto Quindi Se vi piace Condividetelo anche Magari Che non so C'è di Facebook Se fai condividi Poi condividi su Facebook Fate gira il video Se vi piace Vedo che vi piace Ne ordino altre Perché a me piace molto farlo Ma Devo giustificare con me stessa Il fatto che Entrano altre scatole Cioè Più che altro con Luca Perché ogni volta Che vado a prendere una scatola Che arriva da Marco Luca mi dice Un'altra scatola Dove la mettiamo questa roba? Però se so che a voi vi piace Io a Luca gli dico Lo so però Cioè Piace a tutti questo video Che faccio? Non lo faccio? Io non lo faccio per me Non lo faccio per loro E quindi dai Alla fine è solo una scatola Poi le cose le regalo Però cioè Devo avere C'è sta giustificazione Gli devo dire Ma guarda questo video L'hanno guardato tutti Hanno tutti commentato L'hanno condiviso Gli è piaciuto tanto Lo voglio rifare Così almeno Se dice qualcosa sul fatto Che ho comprato altra roba Posso giustificarmi così Grazie E niente Bella A me mi è piaciuta Mi è piaciuta Molto Posso dire Molto Non lo spesso tanto E mi è piaciuta molto E quindi Da questo video Dove apriamo Una gigantesca Gigantesca direi Mystery box di abbigliamento È tutto E noi ci vediamo Al prossimo video Ciao Ciao